Eccoci, io mi trovo davanti alla prefettura di Latina dove si è appena concluso un incontro in videoconferenza a cui ha partecipato anche il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL e alcuni rappresentanti religiosi e non della comunità Sikh di questa provincia. Si tratta di circa 15.000 persone, se contiamo soltanto i regolari, che lavorano principalmente come braccianti agricoli nelle campagne dell'agropontino. Qualche giorno fa è partito uno screening di massa, un'indagine epidemiologica in collaborazione anche con lo Spallanzani, l'Istituto di Malattie Infettive di Roma, perché alcuni dei tamponi che sono stati effettuati tra i membri di questa comunità sono stati inviati proprio allo Spallanzani per cercare di capire se anche qui ci siano dei casi di variante indiana. La buona notizia che è stata data direttamente dal direttore dello Spallanzani, Francesco Vai, è che ad ora non ci sono stati casi di variante indiana trovati tra questi tamponi. Tra l'altro lo stesso professor Vai ha detto che non bisogna terrorizzare perché le varianti ci sono, il nostro ruolo è quello di studiarle in maniera da avere a disposizione più strumenti proprio per combatterli, insomma per sconfiggere il virus. Anche nei prossimi giorni continuerà la campagna di screening sulla popolazione Sikh e non solo della provincia di Latina. Allora a questo proposito noi abbiamo sentito il prefetto Maurizio Falco che ci ha detto appunto quali saranno le misure messe in campo. Vi lascio con le sue parole e poi linea a te. Sono le azioni che tutti possono immaginare, di prevenzione immediata intanto all'ingresso negli aeroporti. Potenzieremo le informazioni con brochure tradotte in indiano e possibilmente chiederemo la presenza di mediatori linguistico-culturali per spiegarle. Dopodiché, quando le persone arriveranno, abbiamo contattato i rappresentanti della loro comunità per fare degli screening veloci. Parte Sabaudi a giovedì avranno il loro tendone organizzato per fare questi screening importantissimi. Al momento però non ci sono elementi di drammatizzazione di questa situazione in atto.